Forza! Forza! Sto lasciatemi a loro! Mi prego, no! Pietà! 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 Oddio! Calma! Calma! Non sono te, uno sguardatore! Calmati! Lei come pensate? Andiamo! Rallenta! Non lasciatemi in mano loro, sono innocenti! Piano, piano! Ehi, ehi! Non vogliono ammazzarmi! Ecco qui! Non vorrete morire per voi! Sono dappertutto! Fai silenzio se vuoi sopravvivere! Presto! Presto! Ascoltatemi da giù, vivo! Calma! Presto! Presto! Ascoltatemi da giù, vivo! Molti avrebbero perso la vita, compreso il sospettato, se non fossi intervenuto! Ti ringrazio! Sono innocente! Non c'entro, lo giuro! Grazie miss! Esti sul pa e capitolo! Oh, oh! Oh, oh! Oh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. L'ultima volta che io, Henry e Jacob eravamo insieme è stato in India. 15 anni fa. Quando scattammo la fotografia, eravamo davanti al Tempio di Kali. E questo è uno dei ragazzi che Jacob ha fatto addestrare con la confraternita, come lo chiamavano? Il piccolo Jack, inquieto e spavalto, proprio come il mio fratello. Altri segni. Cos'è che non vedo? Ho capito, Jacob. Kali, la distruttrice, te l'ho regalata quando sei venuto in India. C'è una donna che potrebbe aiutarci. Sventuratamente ti ricorderà la nostra vicina da piccoli. Se lo squartatore... Sventuratamente. Che cosa vuoi dirmi, Jacob? Amavamo Nelly. Che si riferisca a una donna sventurata. Che Nelly si trovi al bordello vicino all'alloggio di Jacob. Inizierò da lì. Che ha permesso di divertirci. Bene. Occhio aperti, c'è. Questa bomba seminerà il panico fra loro. Speriamo che quest'Anelli sappia dove sei e mi conduca allo squartatore. Se l'ex allievo di Jacob è lo squartatore, vuol dire che è uno di noi. Lo devo fermare. Alla prossima. 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 Alla prossima.